Laudetur Jesus Christus, cari amici teleradioscoltatori, è Pierluigi Bianchi Cagliesi che vi parla oggi 22 febbraio 2021 per il nostro commento del giorno. È doveroso dire qualche parola sui punti essenziali del discorso programmatico fatto dal Presidente del Consiglio Mario Draghi proprio al Senato nei giorni scorsi il 17 febbraio in cui all'interno di un discorso molto lungo e anche molto variegato dobbiamo cogliere perlomeno alcuni aspetti fondamentali che sono il fulcro, il centro di tutta la questione che ci fa capire esattamente quali sono gli indirizzi che verranno perseguiti nella complicità generale di tutte le forze politiche salvo alcune critiche della Meloni che ormai si sono allineate perfettamente al messaggio e anche al proclama del nuovo Messia che è giunto per salvare l'Italia, anzi meglio traghettarla verso quelli che sono gli obiettivi mondialisti delineati dall'Unione Europea. Ebbene cari amici alcuni punti sostanziali del discorso di Mario Draghi ci dicono che questo governo nasce nel solco dell'appartenenza del nostro Paese come socio fondatore all'Unione Europea e come protagonista dell'Alleanza Atlantica nel solco delle grandi democrazie occidentali a difesa dei loro irrinunciabili principi e valori. E qui c'è il primo punto sostanziale che pongo alla vostra attenzione. Dice Draghi che sostenere questo governo significa condividere l'irreversibilità della scelta dell'Euro, significa condividere la prospettiva di un'Unione Europea sempre più integrata che approderà a un bilancio pubblico comune capace di sostenere i Paesi nei periodi di recessione. Gli Stati nazionali rimangono in riferimento dei nostri cittadini ma nelle aree definite delle loro debolezze cedono sovranità nazionale per acquistare sovranità condivisa. Al di là di tutte le chiacchiere ecco i punti sostanziali che sono sostenere questo governo, quindi tutti coloro, tutte le forze politiche, Lega compresa, che sostengono questo governo condividono l'irreversibilità della scelta dell'Euro. Allora cari amici, di irreversibile a questo mondo non c'è proprio niente e quindi già dire una cosa del genere è un'affermazione che veramente suona come qualcosa di molto preoccupante, vedremo se di irreversibile non c'è niente e vedremo se l'Euro è irreversibile, perché i fatti molto spesso smentiscono nel giro di poco tempo quelle affermazioni roboanti che invece vogliono in qualche modo suonare anche come una minaccia, come un diktat, capite no? È così e basta, da qui non si torna più indietro. E poi un altro aspetto fondamentale è quello che cita appunto in riferimento all'accessione della sovranità nazionale, quindi per ottenere una sovranità condivisa che è quella appunto dell'Unione Europea si cede progressivamente la sovranità nazionale, quindi l'Italia si svuota progressivamente di tutta la sua autonomia che è quella economica, che è quella finanziaria, che è quella legata alla sua stessa essenza, alla sua stessa natura, a quelli che sono i fondamenti proprio che danno il valore e un'autonomia reale al paese sovrano per cedere progressivamente sovranità a favore di qualcun altro e delegare quindi nelle mani di questi potentati praticamente tutte le prerogative che danno l'autonomia proprio nazionale agli stati membri. Ma l'Italia in particolare è l'obiettivo che si vuole in qualche modo trasformare il più velocemente possibile, perché trasformata l'Italia è molto facile poi trasferire questo processo a tutti gli altri paesi. Dicevo che più chiari di così non si muore perché sostenere di fatto questo governo significa condividere questa irreversibilità della scelta dell'euro, significa condividere la prospettiva di un'Unione Europea sempre più integrata, eccetera, eccetera. Dicevamo che di irreversibile però c'è solo la morte e pochi giorni fa proprio Salvini ha detto questa frase, ha detto c'è solo la morte irreversibile, però nonostante questo ha dato il pieno appoggio suo e della Lega a questo governo. Dunque, cari amici, il nuovo Presidente del Consiglio ci ha detto con molta chiarezza che dall'Europa e dall'Euro non si sfugge, questo governo quindi nasce nel solco dell'appartenenza a questa Unione Europea e si parla sempre vagamente di principi e valori, sarebbe interessante capire quali siano questi principi e questi valori in una Unione che non è mai stata Unione di di popoli, di nazione, di valori, ma solo un'Unione di banche e di banche private. E sarebbe bello anche istruttivo che qualcuno finalmente ci spiegasse, non contatte chiacchiere e retoriche, in che modo l'Unione Europea e la moneta unica abbiano giovato all'Italia agli italiani, vediamo esattamente il contrario. Vediamo sempre di più una povertà che è la conseguenza di questa politica economica e vediamo anche cosa vuol dire aver perso buona parte della nostra sovranità avendo perso anche la moneta nazionale, perché nella perdita della nostra sovranità c'è anche il diritto per esempio a gestire una politica migratoria che oggi invece viene delegata sempre di più ai diktat dell'Unione Europea, come anche la formazione, la cultura, la scuola, l'indottrinamento delle nuove generazioni e via di seguito. Quindi che cosa significa tutto questo? Significa sempre di più un riferimento molto chiaro ed esplicito che ci fa capire come chi aderisce a questo governo aderisce alla religione dell'Europa. L'Unione Europea è bella, buona e santa, non importa se finora ci ha umidiati, impoveriti, svuotati completamente anche dal punto di vista dei nostri valori, della nostra storia, della nostra cultura, delle nostre tradizioni, perché tutto questo è quello che noi dobbiamo cedere, questa è l'accessione della sovranità, delle nostre radici, dei nostri valori, perché l'Unione Europea è diventata un dogma, vedete, questo ce lo sottolineano continuamente, un dogma che non si discute e l'Euro ci dicono che è irreversibile, dunque è praticamente qualche cosa di divino. Quindi vedete com'è tutto chiaro, perché sostenere questo governo significa condividere l'irreversibilità di questi principi che sono stati enunciati dal Presidente del Consiglio Mario Draghi in maniera molto chiaro, ed è già stato stabilito anche un confine oltre il quale non si può andare, la Sacra Unione Europea è il divino Euro, irrinunciabili, irreversibili, eterni, amen, lasciamo perdere i discorsi climatici che anche sono qualcosa a cui ci si è riferiti in questi passaggi del discorso di Draghi, che sono un altro di questi punti assolutamente irrinunciabili, il cambiamento climatico come la pandemia penalizza alcuni settori produttivi, dice Draghi, senza che vi sia un'espansione in altri settori che possa compensare. E quindi dobbiamo, dice, essere noi ad assicurare questa espansione la dobbiamo fare subito. Quindi c'è di mezzo anche tutta la trasformazione che viene enunciata nel mondo del lavoro, in cui tutti i settori che progressivamente stanno andando in crisi, come quello del turismo, la ristorazione, quello alberghiero, che subiscono le conseguenze di questa politica economica che sulla scia di questa emergenza sanitaria vuole ridisegnare, come vedete, totalmente un mondo nuovo. E saranno questi signori che ci indicheranno quali sono le alternative possibili da percorrere per tutte le migliaia e migliaia e milioni di persone che perderanno i posti di lavoro in settori che erano il centro, il fulcro delle attività lavorative italiane e che invece andranno definitivamente in crisi, mentre loro disegneranno queste nuove politiche economiche che avranno la capacità, secondo quello che ci dicono, di trasformare in una visione epocale, direi, questi cambiamenti che stanno cercando in qualche modo di spingere e di pilotare verso questo nuovo assetto che appunto ha come obiettivo finale, voi ricorderete, il grande reset. Bisogna azzerare completamente l'economia per poi arrivare alla costruzione del nuovo ordine mondiale. E una domanda che ci viene veramente, ci sorge spontanea anche al cuore e la rivolgeremo quasi, diciamo spontaneamente anche a Salvini. Non sappiamo, Salvini, se quella che è stata fatta è la scelta giusta, perché una volta che uno è incastrato nella tela del ragno è molto difficile che non venga ucciso da questo ragno e che tutti coloro che hanno sostenuto questa visione si trovino poi irreversibilmente incastrati in un meccanismo dal quale, lo sappiamo, è successo nel corso della storia, non se ne viene più fuori. Non parliamo comunque, cari amici, di l'assenza totale di riferimenti, come sottolineato molto precisamente dal professor Stefano Fontana, ai valori della famiglia, della scuola, dell'educazione e della vita, di cui non si parla, non si spende una parola, perché chiaramente gli obiettivi di questo governo e di questo Presidente del Consiglio sono ben altri. E vedete come al di là delle etichette, al di là del fatto che tutti si dichiarino cattolici, che tutti si dichiarino persone che hanno studiato nelle scuole cattoliche, formate anche dei gesuiti, tutti quanti, ben in linea con il loro stemmino e la loro etichetta, tuttavia, cari amici, quello che conta nella vita, lo ribadiamo ancora una volta, sono solo i fatti. Le chiacchiere purtroppo non servono a niente e questi signori stanno dimostrando nei fatti quello in cui pensano e quali sono le strategie che vogliono in qualche modo seguire per poter raggiungere quegli obiettivi che sono esattamente opposti a quelli che un cristiano serio e coerente vorrebbe invece raggiungere. Ma sapete qual è la differenza sostanziale? È che chi persegue questi obiettivi certamente non troverà la benedizione, l'aiuto di Dio, l'aiuto del Cielo, ma ben altro, mentre invece coloro che anche nell'isolamento, nel disprezzo, nelle marginazioni che oggi vivono, coloro che sono rimasti fedeli a Dio, seguitano invece a denunciare, a manifestare e a sottolineare con chiarezza, in proprio conformità alla verità che deve essere difesa a ogni costo, soprattutto in questo momento, troveranno invece proprio la benedizione del cielo, l'assistenza proprio della Santissima Vergine e una pioggia di grazie che arriveranno proprio dalla provvidenza di Dio che mai abbandonerà, come voi tutti sapete, coloro che saranno rimasti coerenti in quest'ora, sempre più difficile che si sta avvicinando. Ma con l'aiuto di Dio e l'assistenza della Santissima Vergine, Maria Corredentrice, che ci custodisce nel suo cuore immacolato e ci dà tutte le grazie, ci trasmette tutte le benedizioni e tutti i supporti necessari per poterci muovere, in questo momento non dobbiamo aver paura di nulla. Se il Signore è con noi, chi è contro di noi? Cari amici, ricordiamoci la parabola sempre anche della provvidenza di Dio nel Vangelo che ci ricorda che il nostro unico dovere è quello di testimoniare la verità, perché se noi avremo la forza di testimoniare la verità e di uniformarci alla volontà di Dio in questo momento, dobbiamo cedere veramente le nostre preoccupazioni. Questa è l'accessione di preoccupazioni, di angustie, di angoscia e le cediamo tutte nelle mani della provvidenza di Dio che riverserà su di noi tutte le grazie necessarie per sovvenire a tutti i nostri bisogni materiali e spirituali. Ed è in questa certezza, cari amici tele-radioscoltatori, che auguro a tutti voi una buona giornata, laudetur Jesus Christus. Grazie a tutti!